Questo 4, 3, 2... 4, 3, 2... 2, 6... Alessandra Delzoppi... 3, 9, 1... Quinta donna... 3, 9, 1... Sesta donna... Si viene qui per favore Alessandra... Bravo... Bravo... 6... 6... Sesta... 4... La prima è nel 2001... Non ero sulla più età... Sei arrivata seconda... Comunque ad essere qui... Come? No, ma... Essere qui presenti nel 2001... E poi... Hai fatto anche altre... 2002... 61... Però... Quinta volta ad Albarella... La Sanna Delzoppi... E' la di Veneto... La di Veneto... Se lo vado errato a Firenze... Avete... Ottenuto il... Camminati di squadra... Zan... Senta arrivare qua... Sette... Nonni... 4,10... Vento da poco no? Ah... Vento... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quinto posto, Moira, Campagnano, atleti che hanno diventato un'ora e ventinove e quarantanone. Con 2,79 con Provino. Continuano gli arrivi, siamo un'ora e 35 di gara, circa 500 gli atleti che stamattina sono partiti alle 10 in punto. 301, 203. Ricordatevi che è arrivata in questo momento, ecco il risotto, ricordatevi che l'orcaso ha evitato la distribuzione. Approfittatevi. 255. 42 donne. 420. 412. Era 82, no 72? 259. 259. 396. 378. 202. 398. 392. 321. 321. 221. 269 196 166 275 un'altra donna che arriva in 1-9-3 questo momento 118 donna Cristina Pasolo della Run Team da lei è arrivata decidive ragazzi uno di due 57 119 180 156 53 siamo andati 4 ricordiamo per quanto riguarda Sei, otto, otto, otto un po' che sfetta. Premiazioni, alle dodici sul palco. 3, 14. Se ti greco, questo è il ti greco. Guarda che sei. Ah, hai ragione. È 73 questo qua, eh. 44, 9 donne. 116 20 Laura Gagliazzo è arrivata in questo momento guarda che era il 73 non il 173 1, 4, 6 scuriamo per le prime azioni alle 12 sul palco 3, 10 3, 6, 1 4, 3, 1 alle 12 sul palco i primi 10 nella categoria A mentre dall'undicesimo fino al settantesimo possono ritirare il premio dopo aver effettuato la gara categoria maschile B dal primo al quinto sul palco alle ore 12 in cosa vuole la categoria femminile dalla prima alla quinta sul palco e le altre invece si vede il premio dalla sesta alla quinta alla quinta ah ok abbiamo trovato il bigliettino 2, 89 dove l'hai trovato il coordinato? 4, 2, 8 Moira Campagnaro per favore Moira Campagnaro abbiamo trovato il bigliettino 3, 0, 353 ci vede il bigliettino la portazione microfonica Moira Moira Campagnaro Moira Campagnaro 3, 5 e 3, 3, 11, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 8, 4, 2, 9, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 17, 2, 40, coloro che stanno arrivando in questo momento devono ritirare il pacco gara, è arrivato Angelo Coltiero, per ritirare il pacco gara accomodatevi nei tavoli sotto il cappazzone, vi consegnate il cifre e vi verrà consegnato il pacco gara, atleti che state arrivando in questo momento, consegnate il cifre, bravo Silvestri, 4, 40, un'altra donna, 6, numero 6,